Ciao a tutti, come sapete, nel mio canale ci sono molte ricette con l'avena e diversi porridge per tutti i gusti. Oggi vi parlerò dei tre motivi principali per i quali uso l'avena, soprattutto integrale, nelle mie colazioni. Numero 1. L'avena, nonostante sia leggera e facile da digerire, è molto saziante, è un cereale a lento assorbimento, che per di più assorbe molti liquidi in cottura, quindi riempi con leggerezza. Numero 2. Migliora la mobilità intestinale, e ha un leggero effetto lassativo, visto l'elevato numero di fibre, quindi ci aiuta con la nostra regolarità. Numero 3. Contiene zinco, magnesio, ferro, fosforo, vitamina E, B1 e B5. Non male. Numero 4. Lo aggiungo io, è buona. Se cerchi sul canale, o sulla barra di ricerca di YouTube, inserendo, colazione con tè, avena, troverai tutte le ricette che ti interessano sull'argomento, sono tante. Porridge, barrette ai cereali, muffin, pancake, tortini, persino polpette salate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se ti fa piacere, puoi lasciare un like o scrivermelo nei commenti. Per altri video, iscriviti al canale e attiva la campanella così non ne perderai nessuno.